Aumentano i servizi e diminuiscono le tasse. Varato il Manifesto Generale degli Studi dell'Università d'Annunzio per l'anno accademico 2017-2018, ieri il Rettore Sergio Caputi ha illustrato il nuovo sistema contributivo per immatricolati e iscritti. Sfruttando delle norme contenute nella legge di stabilità è stata alzata la soglia del reddito ISEE da 13.000 a 15.000 euro, rispetto alla quale scatteranno le esenzioni per le matricole, così come per gli iscritti al secondo anno, compatibilmente con i risultati negli studi. Le novità principali sicuramente sono quelle di un abbassamento del livello di tassazione e ci sarà praticamente una premialità per chi ha un reddito ISEE basso, più basso fino a 13.000 o 15.000 euro, gli studenti non pagheranno assolutamente le tasse presso la nostra università, che tra l'altro è già una delle università con la tassazione più bassa in Italia. E poi c'è anche una premialità nella esclusione del pagamento delle tasse da parte degli studenti che si distinguono maggiormente per la qualità del loro curriculum di studi. La d'annunzio vuole essere ancora più attrattiva e per questo motivo ha messo in cantiere dei nuovi servizi, come il bike sharing, nuove proposte di svago per gli studenti di Chieti e Pescara ed un database degli alloggi che rispettano criteri antisismici ed abbiano prezzi calmerati. Come rappresentante degli studenti sento di dover, probabilmente per le prime volte in questi anni, dover elogiare la nostra università, essere qui a dire che siamo contenti e felici per il nuovo sistema contributivo. Un sistema contributivo, come diceva il Rettore, che non va solo a premiare gli studenti con un ISEE basso, con un reddito basso, ma è un sistema contributivo che vuole dire agli studenti e ai futuri matricolati bene, venite a studiare la d'annunzio perché qui la d'annunzio ti aiuta negli studi, ma non solo nei termini economici, ma anche ti vuole premiare la d'annunzio in un'università che chiede di attirare a sé gli studenti più meritevoli.